Siamo amici, oggi andiamo da Primark a vedere le novità che sono presenti in store. Belli questi cappelli, a 13 euro. Ah no, le sciarpe con le iniziali, questa è bellissima, perché è la mia. 11 euro, bello quello il materiale. Facciamo anche così, facciamo le fascette con l'iniziale a 5 euro, il cappellino a 350, i guanti con l'iniziale. A 5 euro, c'è anche in grigio e in palla. Guarda che belli i cappellini con l'iniziale. Bello, grigio e nero, tre colori. Sembra molto carino. Una cosa diversa dal solito, bella questa qui è la fascetta, a 5 euro. 5 euro con le lettere, la c'è la P, S. Carina, ah ma sono di Mickey Mouse, 18 euro. Sono carina, postano 20 euro, però non lo so. Un mega borsone, a 18 euro. Questa qui piccolina, 12 euro. Poi ci sono le bag. Queste sono le fette anche per fare la spesa, piccoline piccoline, a 7 euro. Questa è un'offerta di Mickey Mouse. Questa qui, 16 euro, c'è anche nera. Questa, 21 euro. Io sto cercando una borsa, ma non c'è, cioè io sono un po' scioccata in realtà, perché sto cercando le cose color borgogna e non ci sono. Questa grande viene 18, questa 11 e c'è anche in arancione. Altre borse a 9 euro. Questa è a 10. Ma non mi piacciono. Non so che non comprerò borse oggi. Questa a 14, c'è anche il B, c'è questa. Ci sono quelle più piccoline, qui. 12, 12, Borsona, 20 euro, Zainetti. Gli Zainetti vengono, vediamo un po', 14 euro, cioè sia così che nero. C'è anche questo modello qui, 14. Sarpa rossa, 7 euro. Questa qui viene 12, portafoglio a 5, Borsottina. Questa è carina, ha 14 euro, faccio anche così. Questa è qua piccola, è a 11, c'è anche nero. Questo molto carino, questo cappello, che viene 13 euro. Queste scarpe qui, che vengono 22, queste invece 11 entrambe. Queste sono 4 euro ogni finta, portafogli con le iniziali a 5 euro, e le cinture a 7. Stivali, marroni o neri, 30 euro. Ma questo è carinissimo. Niffi, a 6 euro. Questa quanta? 2,50. Questi sono comodissimi, soprattutto per le borse piccole. Malettini, vabbè, qui a casa. Ci sono queste 5, c'è così. Questi anche chiari. Portachiari. Questi portafogli con l'iniziale hanno anche la strassa, sono carinissimi, a 5 euro. Vediamo un veloce sguardo agli orecchini. Ce ne sono tantissimi, grandi. Questi sono scontati. Vediamo qui. Carini. A 4,50. Bellissimi questi. Come brillano. Uh, questi mi piacciono tanto. 3,50. Belli, proprio belli. E sono carissimi anche questi qui, con l'iniziale, per mettere dentro i gioielli. E c'è ovviamente rosa. Rosa e verde salvia. Stupendi. Questi costano 8 euro. E questo 7. E dentro si possono sistemare collanine, orecchini, braccialetti, anellini. Molto particolari questi. Collane con l'iniziale. Questi più hanno gli strass, 5. Sì, anche con le perle. Più sottili, più larghi. I prese sono tutti sui 4,50. Bella questa. Somma, tutti gli strass. Vediamo qui cosa c'è. Wow. A 7 euro. No, questa è bella. Come brillo. A 7 euro. Bella questa. A 5. No, questo qua è dolcissimo con l'iniziale. Guarda come brilla. 4,50. C'è di stitch. Molto carini. Sono enormi. Questi accessori per capelli. Tutti a 5,50. 17. Questa qui a quanto viene? Tutti a 17 sono. 11. Questa assomiglia a quella che ho preso una volta io qui. Amici, trovo benissimo. La qualità è ottima. 12 euro. E' carinissima questa, invece, questo trolley. Non c'è il prezzo. Però è veramente carino. i pigiami. E' carinissimi. Questi carinissimi. Che bello. E le tartarughe. Bellissimo. Questi sono a 15 euro. C'è questo, che è troppo bellino. Stitch. Questo qui. E' quello di Hello Kitty. I pantaloni con Hello Kitty. C'è anche quello di Minnie che è molto bello. Wow. Ma questo, che se lo ricorda? Questo qui. Io già sto puntando qua, che vedo tante cose di Hello Kitty. Ma sono scomodissime. Comunque, cioè, per andare in bagno ti devi spogliare tutta. Ciao. Maybe we should take some time I think I tend to take you for granted But I think with me you're misunderstanding You say you think you might just abandon us Don't leave, don't leave No, please not now If you need to breathe We can figure this out Don't pack the bags, don't leave the keys Find your peace, clarity Take a day, take a week Baby, just stay with me Baby, just stay with me That's why I don't know Baby, just stay with me Baby, just stay with me Grazie a tutti.